Mi chiamo Nicolò Talignani, ho 32 anni, sono cofondatore di un marchio di abbigliamento giovane che è nato tre anni fa, si chiama Waxman Brothers. Noi siamo partiti prendendo ispirazione dalle fantasie e dai tessuti africani. L'idea è venuta a me e a un mio amico, un mio socio, entrambi vivevamo a Parigi, in questi quartieri molto multietnici dove il wax e i colori africani erano molto presenti.